Siamo soddisfatti perché comunque abbiamo fatto due risultati positivi e questo aiuta a creare fiducia in quello che si sta facendo. Poi è logico che le cose da migliorare sono tante, la capacità di trovare quell'equilibrio necessario in entrambe le fasi che possa consentire a un gruppo di diventare squadra, che è quello che stiamo cercando di fare. E naturalmente per fare questo occorre fare sempre delle prestazioni di alto livello perché le squadre contro le quali si gioca sono molto competitive quindi bisogna sempre cercare di migliorare e di fare delle prestazioni di alto livello. È una squadra che ha cambiato qualcosa rispetto all'anno scorso, anche la guida tecnica. È una squadra che soprattutto in casa ha sempre fatto delle ottime prestazioni e degli ottimi risultati sia in Coppa Italia che alla prima di campionato, un ambiente dove c'è parecchio entusiasmo, una società di tradizione. Il campo comunque è sempre difficile dove andare a giocare. Ha delle ottime individualità, è una squadra organizzata che quando si difende è molto compatta e poi ha, ripeto, individualità anche sia in mezzo al campo che offensive. Hanno dei giocatori di qualità inseriti in un contesto organizzato e quindi sarà una partita, ripeto, da affrontare al massimo di quelle che sono le nostre possibilità. Correrà a fare una prova dove dovremo dimostrare grande maturità, dovremo dimostrare di sapere stare in campo, di gestire i vari momenti della partita e quindi sarà un ottimo test per noi per capire a che punto siamo arrivati.